Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, dai avete visto un giorno con server chiusi è già passato, un giorno è qualche ora, insomma giovedì 2 giugno si avvicina, però deve ancora abbassare la nottata, ce ne sta ancora tutto oggi, martedì, domani, mercoledì e poi giovedì finalmente potremo tornare a giocare online ai football, non al campionato che siamo in attesa di notizie per il momento Konami ha detto, dal 3 o giorni successivi, staremo a vedere quando ci daranno questa data ufficiale, comunque abbiamo da parlare, abbiamo da parlare del Football Championship Open, mi è stato chiesto da tanti un approfondimento su questo tema perché il video in inglese di Konami non aveva i subs automatici in italiano e tutto quanto e quindi ho deciso di fare questo approfondimento con molto piacere, tra gli altri che me l'hanno chiesto, un caro saluto all'amico Weiner, veramente un carissimo saluto all'amico Weiner che ringrazio per tutto il supporto che dà il canale, per i suoi messaggi davvero affettuosi, grazie, grazie carissimo e questo video appunto me l'hai chiesto ed eccolo qui, insieme a te e tanti altri, ma come dire, ci tengo a salutare e ringraziare te. A proposito di ringraziamenti, ringrazio i tantissimi nuovi iscritti al canale che ci hanno fatto superare quota 12.000, ieri ne sono arrivati tantissimi, grazie, ma anche oggi se non vi siete iscritti al canale lo potete fare anche oggi se voi non l'avete ancora fatto iscrivetevi, mettete le notifiche sia per i video sia per la zona community dove ci sono spesso articoli riguardanti football e non solo, offerte e tanto quanto e tanto altro un super grazie a chi ieri si è abbonato al canale, a chi ieri ha mandato un'offerta al canale tramite quel tastino che vedete vicino a dove potete mettere la manina su il pollice su mi piace, c'è vicino il tasto grazie, alcuni di voi lo hanno fatto e li ringrazio ancora, qualcuno si è abbonato al canale e lo ringrazio ancora qualcuno ha fatto acquisti su Amazon, passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video, c'è anche in questo video grazie anche a loro e chi lo ha fatto ieri, grazie, chi lo farà oggi, grazie lo stesso, vale uguale questi sono i quattro modi per aiutarci, iscrivervi al canale, mandare un'offerta, abbonarvi o fare acquisti su Amazon ovviamente non è che le dovete fare tutte, iscrivervi è la prima cosa, una delle altre tre va benissimo tutte e tre se non trovate il link di affiliazione ad Amazon ve lo mando io, basta che vi lasciate un commento e vi ripeto che a voi non costa un centesimo di più passare da qui per fare i vostri acquisti su Amazon non vi costa un centesimo di più, però ci supportate facendo qualsiasi tipo di acquisto va bene, chiuso lo spazio di tutte queste cose, veniamo ai Football Championship Open in prima cosa cos'è, se qualcuno magari ancora non lo sa, è il primo evento finalmente competitivo vero di iFootball cioè il Football Championship Pro che è quello delle squadre professioniste con le squadre partner magari ci torniamo anche un altro giorno, ma è molto più interessante l'Open perché all'Open possiamo partecipare tutti, cioè è un evento che si troverà all'interno del gioco ricordate l'EFootball League eccetera, la PES League che c'era nei precedenti PES è una cosa molto simile, un po' differente però, un po' differente e andremo a vedere tutti i dettagli nelle prossime schermate allora, intanto il periodo da giugno, da fine giugno ad agosto, a ferragosto scelta non troppo saggia, capisco che non in tutto il mondo c'è la tradizione ferragosto però in Italia, in Europa, ferragosto solitamente si fa altro piuttosto che videogiocare o comunque in tanti fanno altro come potete vedere, saranno disponibili tutte e quattro le piattaforme per questo evento PlayStation, Xbox, PC, Steam e mobile stranamente, stranamente però, i vincitori non saranno, come dire, univoci per ogni piattaforma ci sarà un vincitore di questo torneo cosa un po' strana perché se Konami da tempo parla di questo crossplay che stiamo ancora aspettando ad oggi ancora, ve lo ripeto, una data ufficiale non c'è Renan Galvani in primis da per assodato che arriverà il 16 giugno io vi dico, è vero che Konami ha parlato del crossplay come uno dei prossimi aggiornamenti però non ha detto che arriva ancora il 16 giugno quindi, diciamo, è una deduzione di Renan molto, come dire, criteriata, con criterio però io, sempre perché con Konami è sempre difficile da dire qualsiasi cosa mi dico che ancora l'ufficialità non c'è è vero, questo è vero che è stato inserito fra gli elementi che prima di tutti arriveranno in i football quindi sì, è probabile che arrivi il 16 giugno ma non certo detto questo, andiamo a vedere che il Football Championship Open sarà diviso in quattro round perché c'è il round 1, il round 2, il round 3 e le finali che appunto si svolgeranno durante il periodo di Ferragosto tutto avverrà con il nostro Dream Team questo è importante da sapere si dovranno usare i propri Dream Team ecco qui i periodi primo round, quello che ci interessa è quello più vicino 27 giugno, 3 luglio round 2, 8 luglio, 11 luglio round 3, 30, 31 luglio, World Finals non proprio Ferragosto, i due giorni prima 13 e 14 agosto il round 1, ragazzi, è il più semplice penso che il 99% di voi lo supererà dal 27 giugno al 3 luglio cosa dovete fare? bisogna realizzare i tre obiettivi anche se qui parla di challenge visto che ieri abbiamo scoperto che dal 2 giugno ci saranno gli obiettivi in un Dream Team chiamiamoli obiettivi o comunque se volete chiamatele challenge dobbiamo segnare un gol in 5 partite e mi sembra abbastanza facile sostanzialmente perché un gol in 5 partite se non lo segniamo è un po' un guaio la sfida 2 dobbiamo accumulare 3 punti in 5 partite anche questo dico 3 pareggi una vittoria in 5 partite la terza è un pochino più difficile ma non impossibile 6 punti in 5 partite ovvero o due vittorie o una vittoria e 3 pareggi insomma possibile anche perché poi se non ci riusciamo una volta ci possiamo riuscire una seconda volta quindi il round 1 diciamo scremerà un pochino ma io credo io credo che tra di noi nella community di Italia Top Games saremo pochi a essere scremati ben altra questione sarà il round 2 e lì a voglia se saremo scremati e saremo scremati in tanti perché praticamente nel round 2 dall'8 luglio all'11 luglio noi dovremo giocare sostanzialmente 15 partite ne potremo giocare anche di più i risultati che Konami andrà a considerare per passare al round 3 saranno le ultime 15 partite giocate più punti faremo e più avremo la possibilità di passare al round 3 ma qui ragazzi la scrematura è abnorme perché praticamente passano solo 8 giocatori per piattaforma e per zona e da quello che ho visto dopo le zone dovrebbero essere 3 le Americhe l'Europa e l'Asia sostanzialmente perché perché alla fine arriveranno 6 giocatori 2 per zona e quindi si fa subito sono 3 zone quindi noi italiani ce la dobbiamo battere con tutti gli europei per ottenere per rientrare tra gli 8 giocatori per piattaforma quindi ce ne saranno 8 Xbox Europa 8 Playstation Europa 8 PC Europa 8 Mobile Europa e qui davvero qui la scrematura sarà abnorme cioè onestamente secondo me ci sarebbe potuto essere per rendere più carina la cosa una via intermedia perché il round 1 ve l'ho detto secondo me il 99% di noi lo passerà e qui invece il 99% di noi sarà eliminato perché tanto ne saranno solo 8 dei giocatori per tutta l'Europa se vogliamo no scusate sì 8 quindi sono 8 16 24 32 giocatori in tutto 8 per PC 8 per Xbox 8 per Playstation e qui per forza di cose il 99% di noi sarà eliminato una via di mezzo sarebbe stato un pochino più divertente più carino magari anche dare qualche premio all'interno del gioco e dal 99% passare al 50 al 30 al 20 per dire invece il round 3 non eliminerà quasi nessuno il round 2 eliminerà quasi tutti vabbè comunque così è dall'8 luglio all'11 luglio e qui ripeto contano i 15 i 15 i risultati delle ultime 15 partite giocate all'interno di questo evento round 3 e qui diventano dei challenge events dal 30 al 31 luglio che verranno giocati solo da quegli 8 giocatori per piattaforma quindi riguarderà una piccolissima parte dei giocatori di football io spero che qualcuno di voi che sta ascoltando questo video farà parte di questo round 3 ma per forza di cose non tutti perché molto più di 32 persone guardano i video quindi veramente saranno pochissime a poter partecipare da questo round 3 usciranno due giocatori per piattaforma e zona quindi per noi italiani dobbiamo sperare di essere tra i due per xbox europa i due per playstation europa i due per pc europa i due per mobile europa e lo ripeto tutto questo avverrà all'interno del gioco sia il round 1 sia il round 2 sia il round 3 tutto questo avverrà all'interno del gioco ovviamente round 2 e round 3 solo chi si qualificherà round 2 abbiamo detto si qualificheranno quasi tutti round 3 non si qualificherà quasi nessuno successivamente arrivano le world finals non si capisce bene se l'open sarà anche in presenza o sarà sempre digitale ho visto risentito visti i sottotitoli in automatico di google in inglese non c'è da nessuna parte questa informazione ve lo garantisco se il konami l'ha pubblicata da qualche altra parte non lo so nel video non c'è comunque qui arriveranno 6 giocatori per playstation 6 giocatori per xbox 6 giocatori per steam e 6 giocatori per mobile da tutto il mondo quindi 2 europa 2 america e 2 asia poi non so l'oceania il medio oriente come verrà gestito però più o meno questa è la situazione qui avverrà un fatto particolare anche questo è da capire ogni giocatore dovrà scegliere una squadra di riferimento però non si capisce se tra tutte le squadre o tra solo le squadre partner le squadre che giocheranno i championship pro comunque questa è una cosa che interessa 6, 12, 18, 24 giocatori al mondo dovranno scegliere una squadra e ci dovranno essere dei set di forza massima e minima nella scelta dei giocatori proprio per equilibrare al massimo le cose e far vincere sostanzialmente chi è davvero più bravo e non solo chi ha il migliore dream team questo è quanto alla fine alla fine come detto ci saranno 4 vincitori di questi championship pro un giocatore per playstation un giocatore per xbox un giocatore per steam un giocatore per mobile sarebbe bello alla fine premiare anche il vincitore assoluto tra questi 4 premiare il vincitore era semplice fare due semifinali ma per il momento Konami questo non l'ha previsto magari la prossima edizione io lo avrei fatto così anche questa lunga questione sul fatto che i giocatori playstation sono i più forti perché ne sono di più vediamo io ad esempio vi dico una cosa da questa esperienza playstation steam non è che su playstation il matchmaking è così più veloce è tutt'altro a volte su steam arrivano prima gli avversari questo debba essere segno che ci sono più giocatori poi dopo i dati non ce li ho in questo momento disponibili sul numero di giocatori playstation e steam vi dico solo ecco magari in italia è così e in tutto il resto del mondo non è così e non lo so però ecco vi dico il matchmaking su steam sembra quasi più rapido poi magari è solo una questione di infrastruttura e invece anche in italia sono 10 volte i giocatori playstation comunque staremo a vedere fra poco ricomincia il campionato anche se la mia squadra deve la nostra squadra deve rinforzarsi ancora vedremo un po' come va su playstation ragazzi questo è davvero tutto sui football championship open diamoci appuntamento al 27 giugno per il round 1 che sarà molto semplice e partecipiamo così vediamo se qualcuno nella community di Italia top games arriva a fine alle world finals o magari già arrivare a round 3 sarebbe tanta roba tanta roba tanta roba quindi quando comincerà fatemi sapere come vanno le cose manca meno di un mese ma da qui al 27 giugno a voi a risentirci per video sul campionato sugli obiettivi su tutti gli aggiornamenti di football bene io vi ringrazio per l'attenzione spero di essere stato chiaro in questa spiegazione se avete comunque bisogno di ulteriori informazioni se ce le ho ve le do volentieri basta che lasciate un commento vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi rinnovo l'invito ad abbonarvi a mandare un'offerta al canale o a fare acquisti su amazon passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione vi ringrazio per aver visualizzato in tantissimi video di ieri mi dispiace ancora non poter giocare online a me come a voi lo so benissimo ma dai siamo già a martedì giovedì arriva presto grazie per l'attenzione e al prossimo video ciao grazie a tutti